L'estate alle porte, con la geografia del turismo che sta cambiando a causa della paura degli attentati terroristici, il Gargano potrebbe diventare una delle mete più gettonate da turisti provenienti da tutto il mondo. L'aeroporto di riferimento è quello di Bari-Palese, da dove fino allo scorso mese di ottobre partiva una navetta in direzione Gargano, con fermate a Manfredonia, Vieste, Peschici e Rodi, consentendo a chi faceva scalo a Bari di raggiungere le località di villeggiatura. Ad oggi il servizio, pare per un intoppo tecnico alla regione Puglia, non è ancora partito e gli operatori turistici alzano la voce. Mariella Nobiletti, presidente del consorzio Gargano Mare. Il servizio navetta Bari-Palese-Gargano è fondamentale. Il consorzio Gargano Mare si è impegnato tantissimo per farlo attivare e oggi ci troviamo nella situazione in cui è passato già un mese e ancora non è stato attivato. Questo per noi è un grave problema perché praticamente abbiamo prenotazioni che si sono abbastate proprio sulla certezza di questo servizio. È un servizio che ormai è diventato indispensabile per il nostro territorio visto che non abbiamo altri collegamenti per un aeroporto internazionale. Quindi chiediamo che con urgenza venga riprisinato il collegamento perché non possiamo veramente più aspettare. Immediata la disposta dell'assessore al bilancio della Puglia, Raffaele Piemontese, che tranquillizza gli operatori turistici. C'è stato un nostro preciso impegno. Noi abbiamo stanziato le risorse nel bilancio, quindi le risorse per il pagamento di questo collegamento ci sono. Essendo stati spostati i capitoli dai trasporti al turismo perché è promozione del turismo, gli uffici tecnici hanno avuto un ritardo che verrà compensato. Ma le risorse io le ho messe in bilancio. Giornata ecologica. Amo il mare e la mia città. La Lega Navale, sessione di Manfredonia e il Centro Cultural del Mare in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto, l'autorità portuale e l'azienda ASE di Manfredonia con alcune classi del studio comprensivo per otto orsini e rotundi fermi organizzano una giornata ecologica a tutela delle nostre spiagge e dei fondali marini. Amo il mare e la mia città. La manifestazione mira a valorizzare il comportamento di quanti amano l'ambiente che se rispetto porta ad una effettiva riduzione dell'inquinamento e da un'immagine più significativa della bellezza di Manfredonia. Per l'occasione l'ASE ha messo a disposizione le opportune attrezzature per continuare l'azione di sensibilizzazione verso un maggior senso civico e cura del decoro urbano. Ogni anno tonnellate di rifiuti, tra cui morta plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozzicone e sigarette finiscono in mare per incuria, negligenza e disinteresse, inoltre anche per ignoranza. Per salvare il mare fai un piccolo gesto, non abbandonare i rifiuti e lascia sulla sabbia le tue orme. L'evento avrà luogo oggi 13 maggio presso spiaggia Castello e un tratto della squagliera di acqua di Cristo a partire dalle 9.30. Rapina ad una rivendita tabacchi a Manfredonia Ieri pomeriggio intorno alle 17 una rivendita tabacchi in via della Croce è stata oggetto di una rapina a mano armata ad opera di un uomo non identificato. Non quantificato il bottino della rapina e per fortuna nessun ferito. L'uomo avrebbe agito da solo con il voto coperto e probabilmente con una pistola giocattolo. Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando della compagnia di Manfredonia. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sulla strada Litoriane a Vieste in mattinata nei pressi del centro vacanze Gattarella. Per la precisione nella curva dopo l'ex ristorante Porta Nuova in direzione mattinata. Qui un pullman di linea delle ferrovie del Gragano proveniente da Foggia si è scontrato con un camion con ruspa a bordo. Nell'impatto abbastanza violento la peggio l'ha avuto il pullman che ha subito danni notevoli sulla fiancata sinistra da parte del guidatore il quale assieme a alcuni passeggeri è rimasto ferito. Per fortuna pare non in maniera grave. Ma tanto è stato lo spavento anche per i vetri di una fiancata che sono andati in frantumi ed il pullman nella parte anteriore ha subito un grosso squarcio. Certamente poteva andare peggio. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo causando non pochi inconvenienti a chi doveva raggiungere il capoluogo ma anche ai tanti diretti avvieste. E parliamo di sport. Dopo la recente conferenza stampa del presidente Antonio Sdanga che ha annunciato la possibilità di ottenere la sponsorizzazione di Enegas per il prossimo campionato di Serie D per quanto riguarda il Manfredonia Calcio, chi a sudire permetterebbe alla squadra Sipontina di continuare ad esistere visto che sempre a sudire non ci sono imprenditori o forze locali interessati alle sorti di Manfredonia e che se ci sono devono farsi avanti, Sdanga ha deciso che vuole attendere i decigioni per decidere autonomamente se accettare la sponsorizzazione di Enegas oppure lasciare il Manfredonia Calcio. Ebbene, nella qualità di impreditore, ha detto Lino Troiano, già presidente del Sodalizio Bianco Celeste da sempre innamorato dei colori bianco celesti, preannuncia agli organi di stampa che qualcuno c'è e pertanto ha chiesto al signor Sdanga un incontro per lunedì 16 maggio nella mattinata per discutere del Manfredonia Calcio e per offrire la disponibilità a rilevare la società sportiva per ricostruire dalle fondamenta un nome, un'immagine e anche un futuro. Lino Troiano è disposto a rilevare la società sportiva ma occorre che vengano resi i bilanci della società, le spettanze e soprattutto le pendenze. Una volta accertati questi elementi si potrà trarre una conclusione per decidere in proprio o anche con l'aiuto di altre forze a lui vicine per ripartire con il progetto Manfredonia Calcio, se possibile anche dalla stessa categoria in cui attualmente milita. Nota stampa di Lino Troiano, ex presidente del Manfredonia Calcio. Torna Bici Città. Il comitato territoriale Wisp di Manfredonia e del Gargano, con il patrocinio del comune di Manfredonia, organizza per domenica 29 maggio una manifestazione sportiva in bicicletta, una passeggiata dove si percorreranno le vie della città e il lungomare di Manfredonia e Siponto. La manifestazione sarà coadiuvata dalla Polizia Locale per la Sicurezza Stradale e dalla PASE per quanto riguarda il soccorso. Durante il percorso ci saranno postazioni di spugnaggio alla passeggiata in bici, possono partecipare tutti, nonni, genitori, figli e nipoti. Il ritrovo è previsto alle ore 9 in Piazza Duomo. Inoltre tra tutti i partecipanti alla manifestazione verrà sorteggiata una bici mountain bike.